La tragedia sul lavoro a Terlizzi fa salire a quattro morti il drammatico bilancio delle vittime di incidenti avvenuti sul luogo di lavoro in queste due ultime settimane in Puglia, che risulta essere una delle regioni dove si registra il maggior numero di morti bianche. Un ennesimo graffio sul cuore. Queste le prime parole del direttore regionale INAIL Puglia, Giuseppe Gigante. Sì, è l'ennesima tragedia che si consuma nel nostro territorio, che colpisce, che graffia il cuore di tutta la comunità. Noi naturalmente ci siamo già attivati. Di questo evento conosciamo solo la dinamica, ma è chiaro che l'istituto è a fianco della famiglia per un intervento rapido ed efficace, che almeno porti un indennizzo rispetto all'evento che si è verificato e che ci ha colpito, come ha colpito tutta la comunità alla quale questo ragazzo apparteneva.